Essere qui oggi e sentire le parole del Dottor Zavoli e del Presidente della Repubblica ci hanno emozionato tanto e ci hanno dato speranza verso un futuro brillante per noi giovani e è stato veramente importante partecipare a questo progetto dato che siamo noi oggi i protagonisti forse della nuova televisione e abbiamo avuto modo durante questi mesi, questi tanti mesi di lavoro di finalmente capire lo stretto legame che c'è stato e che c'è ancora tra la storia della Repubblica Italiana e la storia della RAI in quanto la RAI ha avuto una funzione pedagogica per l'Italia Vorremmo che la televisione dia comunque una voce a noi giovani che comunque si ringiovanisca e che dia spazio alle nostre produzioni di tipo teatrale e musicale che facciamo a scuola